Classe 1977, originaria di Napoli, Antonia si è fatta conoscere per le sue interpretazioni sul palcoscenico a fianco di Carlo Cecchi, soprattutto grazie agli adattamenti di sei personaggi in cerca d'autore e tartufo. L'esordio nel cinema risale invece al 2001, quando interpreta Teresa in La Volpe a tre zampe, ambientato nella Napoli del 1956, ma Antonia deve attendere circa quattro anni per assaggiare i primi frutti della notorietà, merito del ruolo in La Squadra, la serie televisiva poliziesca in onda su Rai 3 dove veste i panni dell'agente Paola Criscuolo. Da questo momento i suoi impegni per piccolo e grande schermo diventano più frequenti, ma è a teatro che Antonia dà il meglio di sé. Per il già citato sei personaggi in cerca d'autore vince diversi premi, tra cui il maschera d'oro. Il 18 aprile 2016 vince il David Di Donatello per la miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione della camorrista Anunzia e lo chiamavano Gig Robot di Gabriele Mainetti, riuscendo così a conciliare la sua formazione teatrale con le esigenze di un film di genere supereroistico.